Ciao a tutti amici del canale Tony's Pipe, in questo short velocissimo, oggi giornata in cui esco a fotografare, vediamo un po' cosa mi sono fuori, il mio piccolo garden, allora, questa qua tracolla la cost vintage, come piace a me, la bella, condizioni strepitose, apriamo, allora, un botti tu la fai da te perché non si rompono le fotocamere, abbiamo la f60 con l'obiettivo montato, ormai posso rispettare una decina di foto, perché non sto finendo, qua la prima rullina, che vado in casa perché non avendo il tappo, la f65 con un rullino di ricambio qua sotto, ecco, qua c'è entrato allo vecchio, l'usatelo per spedire per il tuo giuco, per la tua macchina, per il mio cammero più, per questa macchina qua, poi lo cambio macchina per questa qua l'ho già testata, adesso vorrete trovare questa, e via la.